Vedete scusarmi, purtroppo ho avuto qualche problema di telefono, eccoci qua alla fine della storia, dunque dicevamo Massimiliano ormai senza più l'appoggio di Parigi, senza appunto con gli Stati Uniti potentissimi che finanziano e armano gli cuaristi, con appunto il suo esercito regolare governativo ridotto allo strema perché appunto era poco numeroso, mal armato eccetera eccetera, è costretto a lasciare città del Messico e a spostarsi a Santiago del Queretaro, un po' più lontano, e lì fare una fortificazione appunto per fare l'ultima resistenza. Sua moglie Carlotta prende una nave a Veracruz, torna in Europa e disperata, veramente disperata è la parola, era una situazione terribile, cerca di aiutare il marito, l'amatissimo marito, che però lei sentiva di aver spinto in questa impresa dissennata. E quindi va a chiedere a suo padre, il re del Belgio, va a chiedere al papa, che a tempo appunto era ancora il papa re, era appunto solo negli stati pontifici, va a chiedere a Parigi, e poi nel terzo fa finta di nulla, ma sì, ma se la cava anche da solo, non mi servo più io, va a Vienna, Vienna non può aiutarla, quindi torna a Miramar, al suo castello appunto di Trieste, e lì impazzisce, perde il senno, viene recuperata dal suo fratello, un altro principe belga, appunto è portata a Bruxelles dove morirà nel 1927, ormai appunto ombra di se stessa, era una delle donne, era ritenuta la donna più bella del Messico, questa situazione l'ha rese del tutto folle, assolutamente, aveva ormai perso l'equilibrio mentale, aveva perso appunto tutta la sua bellezza, e visse praticamente tutta la sua vita rinchiusa a Bruxelles, senza vedere nessuno, e appunto sopravvivendo di moltissimo al marito, sopravvivendo perché appunto Massimiliano venne sconfitto, gli si prospettò la possibilità di fuggire, ma lui disse non voglio lasciare i miei fedeli in questo momento, perché dovrei scappare, che il mio onore di sovrano dove andrebbe a finire, gli si prospetta addirittura di scappare rasandosi la barba, lui aveva una foltissima barba, sburgica ovviamente, cioè era la moda dell'epoca, dice no assolutamente non voglio farlo, io non posso scappare in questo modo, cerca comunque di fare una sortita, di uscire appunto con gli ultimi fedeli, e di vedere di rompere l'assedio intorno a Cheretaro, e di poter appunto trovare un'altra posizione meglio difendibile. Viene catturato, lui con altri due generali lealisti, due generali appunto del suo seguito, condannato a morte da Benito Juarez, contro le disposizioni stesse di Washington, Washington aveva detto va bene la lezione a Massimiliano l'abbiamo data, gli europei non metteranno più piede negli Stati Uniti o comunque insomma nell'area di influenza statunitense, perché appunto il Messico insomma era repubblicano, indipendente eccetera fino a un certo punto, e invece no appunto, il Presidente americano aveva chiesto la grazia appunto, non gli viene concessa, lo stesso Garibaldi addirittura, conosciamo, anteaustriaco per eccellenza no, aveva combattuto la guerra di indipendenza, aveva chiesto anche lui appunto di lasciare, di dar salva la vita all'imperatore, nulla. Victor Hugo, il grande scrittore francese, Édouard Manet, il grande pittore francese appunto, tutte gente disonorata diciamo dal modo di fare appunto del loro imperatore Ampolone III che aveva prima buttato Massimiliano in questa situazione e poi se ne era scappata via. E nulla, Massimiliano appunto con i due generali lealisti viene fucilato appunto a Cheretaro il 19 giugno, ecco perché ho fatto oggi questo video, il 19 giugno 1867. Le sue ultime sono parole di perdono, dice io perdono chi mi vuole uccidere, spero di essere io stesso perdonato, spero che il mio sangue sia utile alla salvezza del popolo messicano, vive Messico, viva l'indipendenza e mora appunto fucilato. Anche gli altri generali, gli altri due condannati a morte, va detto appunto, sono morti appunto guardando in faccia il potone di esecuzione con molto coraggio, appunto non hanno chiesto pietà, non so. E quindi questa è la storia triste di Massimiliano e Carlotta del Messico. Da questa ipopea abbiamo oggi, oltre ad alcuni film, uno dei più celebri è Veracruz, appunto il film western degli anni 50 che parla di una cassa d'oro che doveva partire da Cielo del Messico, arrivare a Veracruz e da lì essere mandati in Europa per comprare momenti per Massimiliano, ma viene appunto rubata da una serie di bandidos, appunto è un film un po' dell'epoca, un po' tipico di quei tempi del cinema americano. Ma soprattutto abbiamo nel capo musicale La Paloma, che vi lascio il link in descrizione, ma sicuramente appena la sentirete la ricorderete, è una delle più celebri canzoni messicane, è appunto di quel periodo della canzone preferita di Carlotta. Adios Mamma Carlotta, un'altra canzone appunto dei Juaristi, che tuttora è molto in voga in Messico. Tra l'altro, la maglia effettivamente, ci ho fatto caso adesso, giuro, è un caso. E cos'altro? E le leggende. In primis appunto va detto che, questo più reale che leggendario, Francisco Giuseppe rimase veramente sconvolto a questo fatto. Ecco, ho mandato io mio fratello là, non ho fatto abbastanza per tenerlo a Trieste, gli ho fatto pure lasciare i titoli, tutta colpa mia si è finita così, perché comunque tra di loro, sì, c'erano di verbi politici, ma da un punto di vista familiare erano molto legati i due. Pochi anni di differenza erano cresciuti insieme. E soprattutto però la leggenda vuole che il castello di Miramarci sia stato maledetto da Carlotta nell'attimo di lasciarlo, ancora non è la sua pazzia appunto che ne è portata via da suo fratello. Lei maledice il castello dicendo Tutte le coppie che vivono qui dentro siano maledette, il marito muoia come mio marito, lontano da casa, in peccato mortale e in modo violento. Fu così. Una marea di arciducchi e arciduchesse della famiglia imperiale austriaca pernottarono nel castello e finirono male e precocemente. D'arciduchesse appunto che finì bruciata a diciottenne perché una sigaretta cade sul suo vestito, non ricordo il materiale, appunto comunque estremamente infiammabile, e quindi appunto lei morì torcia umana a diciotto anni, una delle arciduchesse più belle appunto di Vienna, Fiel Duca di Tessian. Oppure appunto andando più avanti abbiamo numerosi ufficiali nazisti perché appunto quando Trieste viene occupata nel 43-45 e il castello di Miramare era appunto la base, era il quartiere generale diciamo delle armate tedesche in zona, ufficiali sia nazisti che esercito tedesco, la Wehrmacht appunto morirono impiccati dagli Jugoslavi o comunque appunto finirono processati a Norimberga, quindi anche loro vittime alla maledizione. Oppure dopo la guerra appunto ci si insediarono degli ufficiali americani, anch'essi finiti male, cioè appunto il comandante militare della zona americano prese parte pochi anni dopo la guerra di Corea e mentre si recava appunto in Corea fu abbattuto dalla contraerea coreana e morì appunto nello schianto del suo aereo. Ci fu invece un generale neozelandese appunto, che quindi combattivano con gli inglesi nel secondo guerra mondiale, che conscio da una maledizione preferì arrivare appunto a Trieste ma pernottare in una tenda nel giardino del castello. Non ebbe problemi, morì serenamente e questa appunto è la storia della maledizione del castello, la storia appunto della cultura popolare intorno a Carlotta e Massimiliano e appunto la loro storia. Massimiliano dopo appunto venne portato l'anno successivo sullo stesso veliero con cui aveva fatto il viaggio in andata venne riportato a Trieste, da lì a Vienna ed è tuttora sepolto nella cripta dei Capuccini, la chiesa appunto dove sono sepolti i membri della famiglia degli Asburgo Lorena. Grazie per aver seguito questo lungo video, questi due lunghi video e ci vediamo al prossimo episodio. vi raccomando di lasciare come sempre un like e iscrivervi al canale se gli argomenti vi piacciono e di controllare appunto i link in descrizione sia alle canzoni che appunto vi linko sia soprattutto al link che mi riporta alle varie pagine social del canale. Ancora grazie, buona serata, a presto. Grazie. Grazie. Grazie.